Buon giovedì a tutti voi e grazie di essere qui. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Mara con le nuove anticipazioni. Prima di iniziare vi ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale per poter ricevere altre anticipazioni e inoltre se questo video è stato di vostro gradimento al suo termine, sempre se ne avete voglia, lasciate un mi piace. Detto questo iniziamo. Tutti credono che Fikret sia partito ma in realtà non è così. Il giovane infatti non ha lasciato la Turchia e tantomeno Cukurova ma è ancora in paese. La prima a scoprire la verità è Umit che un bel giorno tornando a casa da lavoro si ritrova Fikret davanti agli occhi. Lui le spiega che è rimasto in paese perché la sua sete di vendetta non si è di certo prosciugata. Dopo che ha visto che Demir ha fatto appendere per il paese la lettera che sua madre scrisse a Lutfiè per dirle della sua storia con Adnan Yaman, ha deciso di restare e continuare con la sua guerra contro Yaman. Umit, che di recente ha avuto una grossa delusione da Demir, lo appoggia totalmente e dice a Fikret che è pronta ad aiutarlo in qualsiasi modo. Si è fatta sera e alla tenuta Yaman la famiglia ha appena finito di cenare insieme a Sermin che è andata lì a fare una visita. Mentre si chiacchiera in salotto suona il telefono. Demir risponde e dall'altra parte ascolta Umit blatterare frasi senza senso. Gli chiede perdono per aver infastidito lui e la sua famiglia e poi gli dice che vuole salutarlo e che lo ama così tanto che per lui si toglierebbe la vita. Poi la telefonata si chiude. Demir capisce cosa sta succedendo e allarmato e senza dare spiegazioni esce di casa di corsa. Demir si precipita a casa di Umit e quando arriva lì la trova stesa sul letto quasi priva di sensi. Poi vede che sul suo comodino c'è una bottiglietta di pastiglie completamente vuota e capisce che cosa ha fatto. La scuote e riesce a svegliarla. Lei continua a scusarsi e a bisbigliare altre parole. Demir vuole portarla in ospedale affinché le prestino soccorso e per questo la prende in braccio. Umit però lo ferma e gli dice di no. Intanto nascosto vicino alla camera da letto c'è Fikret che sta fotografando tutto. In realtà lui e Umit si sono organizzati e la dottoressa sta solo facendo finta di aver provato a togliersi la vita. Demir è letteralmente caduto nella loro trappola. Fikret così scatta foto di Yaman accanto ad Umit chinato vicino a lei con lei tra le braccia e con lei seduto sul letto. Insomma immagini parecchio fraintendibili che ovviamente sono destinate a Zuleya. Più tardi quando la situazione sembra essersi calmata Demir torna a casa e spiega a Zuleya, Sevda e Sermin che è dovuto uscire di fretta perché dalla telefonata ha saputo che si era incendiata una bottega e lui temeva che ci fossero dei feriti. Zuleya e Sermin gli credono, Sevda ovviamente no, pare avere forti sospetti. Poco dopo Demir e Zuleya si riuniscono in camera da letto. Zuleya dice a suo marito che Sevda si è preoccupata tantissimo e che ormai si vede che gli vuole bene come ad un figlio. I due si stringono l'uno all'altra e passano un momento molto romantico insieme. Si nota però che Demir comunque è un po' pensieroso. Quello che è successo poco prima è abbastanza pesante e le parole di Umit lo hanno sicuramente segnato. Nel frattempo Fikret ha iniziato a sviluppare le foto e più tardi a cena con Umit parla di quanto potrebbe accadere dopo che Zuleya avrà visto le immagini. Divorzieranno? Chissà. Ciò potrebbe portare anche Demir alla morte e questa ipotesi spaventa Umit. Fikret invece spera che vada così. Una volta che Demir sarà morto dice che finalmente potrà vivere con Mushgan. Il giorno seguente alla tenuta Yaman arriva proprio una lettera per Zuleya. Sevda però decide di aprirla e all'interno vi trova proprio le foto che ha scattato Fikret dove si vedono Umit e Demir vicini più che mai. Sevda è letteralmente sconvolta e per questo decide di agire. Così con le foto tra le mani furiosa corre in ospedale. Va nello studio di Umit e le sbatte le immagini sulla scrivania chiedendole che cosa abbia intenzione di fare. Sevda urla alla dottoressa che deve lasciare in pace Demir ed evitare di distruggere una famiglia, cosa che invece sta tentando di fare. Umit, più dura che mai, le dice che forse distruggere famiglie è nella sua indole, proprio come lei visto che in passato ha distrutto la famiglia di Adnan. Sevda non capisce che cosa stia dicendo ed insiste chiedendo le spiegazioni. A quel punto Umit tira fuori una foto e la mette sotto gli occhi di Sevda. Nell'immagine c'è proprio lei che, giovanissima, stringe tra le braccia una bambina che sembra essere appena nata. Umit così svela a Sevda che lei è sua madre, si mette a piangere ed accusa la donna di averla abbandonata per Adnan Yaman. Le chiede che razza di madre sia e se si sia mai resa conto di quello che ha fatto. Tra le lacrime la dottoressa dice che ha sofferto tantissimo, che ha pianto tanto, ma che l'ha sempre odiata. Sevda è pietrificata e l'unica parola che riesce a pronunciare è Aila, che è il vero nome di Umit. Poco dopo Sevda crolla su una poltrona. Umit capisce subito che ha avuto un infarto e chiama i medici e gli infermieri affinché corrano ad aiutarla e a soccorrerla. La giovane dottoressa comunque è molto sconvolta. Ignara di quello che è successo, successivamente Zuleya arriva in ospedale e si reca nello studio di Umit. Lì, sulla poltrona della dottoressa, intravede una strana foto, ma fortunatamente in quel momento arriva Mushgan, che la raccoglie e dice che sarà lei a darla alla sua collega. In quella foto ci sono proprio Umit e Demir insieme, ma fortunatamente Zuleya non l'ha vista bene. Comunque la donna da Mushgan viene a sapere che Sevda ha avuto un infarto e subito si precipita nella sua camera. Poco dopo in ospedale arriva anche Demir, che apprende quanto accaduto. Sevda vuole tornare a casa, ma Umit dice di no. Dato che soffre di cuore, deve restare lì almeno una notte, perché devono farle altri controlli. Naturalmente, tutti si chiedono come mai Sevda abbia avuto un infarto, specialmente quando era nello studio di Umit. La dottoressa si inventa che la donna non si sentiva bene ed era andata a fare un controllo proprio da lei, ma mentre parlavano si è sentita male. E anche Sevda racconta la medesima cosa, anche se Demir pensa che la donna sia andata in ospedale per parlare con Umit della loro storia segreta. E intanto Mushgan conserva la foto che ha preso, prova tangibile che Demir Yaman ha tradito sua moglie.